Temptation Island, Stefano Sirena furioso con Manuela Carriero, si immatura Manuela Carriero attaccata dall'ex Stefano Sirena dopo Temptation Island, si immatura Stefano Sirena e Manuela Carriero hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island finita giusto martedì scorso Purtroppo i due hanno capito ben presto di non essere fatti l'uno per l'altra Tanto da arrivare alla conclusione di uscire dal reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia separati Al momento si segnala che entrambi sono fidanzati con i rispettivi tentatori di Temptation Island Poco fa però Stefano Sirena ha pubblicato un post su Instagram davvero al veleno nei confronti della sua ex fidanzata Manuela Carriero Non l'ha nominata esplicitamente, ma il riferimento è stato chiaro a tutti Cosa ha detto? In pratica il ragazzo ha consigliato alla ex di evitare di continuare A lanciare frecciatine più o meno velate e le ha anche chiesto di smetterla di contattare le sue ex per insultarle Fai ancora battute pessime, scrivi alle mie ex insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati Sì matura, goditi la tua felicità Temptation Island, Stefano Sirena lancia una frecciata a Manuela Carriero Ci sono persone che fingono di viversi la favola? Stefano Sirena è però un vero e proprio fiume in piena E sempre in questo post pubblicato poco fa su Instagram Dopo aver chiesto alla sua ex fidanzata Manuela Carriero di smetterla Di continuare ad avere determinati atteggiamenti nonostante Temptation Island sia ormai finito Ha anche colpo l'occasione per lanciarle un'ultima frecciata Punto, di fatti Stefano Sirena di Temptation Island sul quale ha espresso la sua opinione Luciano Punzo Ha dichiarato senza tanti giri di parole che starebbe fingendo di viversi una favola con il tentatore Ci sono persone che vanno avanti e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato Secondo quest'ultimo Manuela di Temptation Island continuerebbe a rivangare il passato non riuscendo quindi a viversi bene il presente Manuela Carriero e Luciano Punzo insieme dopo Temptation Island cosa ne pensa la sorella di lei In queste ultime ore anche la sorella di Manuela Carriero, su Instagram Ha voluto esprimere la sua opinione su questa nuova storia d'amore nata con Luciano Punzo dopo Temptation Island E quest'ultima non ha avuto il minimo dubbio nel dire di non aver mai visto sua sorella così felice al fianco di un uomo Sei tornata? Ti ho guardato ed ho capito! I tuoi occhi finalmente hanno una luce quella che ti meritavi!